buongiorno a tutti oggi siamo a comano per mostrarvi questo quattro e mezzo locali siamo al piano terra di questa palazzina entrando nell'appartamento veniamo accolti da questo disimpegno che ci porta a questo corridoio molto lungo sul quale si affacciano tutti i locali dell'appartamento iniziamo subito a destra troviamo l'area del soggiorno come potete vedere molto ampio molto luminoso grazie a queste ampie vetrate e a questa porta finestra al quale si accede al balcone che vediamo poi in seguito sulla sinistra dell'ingresso troviamo la cucina una cucina composta di frigorifero congelatore lavastoviglie lavabo piano cottura in vetro ceramica e forno continuando la nostra visita a metà del corridoio sulla sinistra abbiamo un bagno di servizio composto di specchiera lavabo pc proseguiamo sulla destra del corridoio abbiamo la camera matrimoniale come potete notare molto ampia anche essa ha attraverso questa porta finestra l'accesso al balcone nella parte finale del corridoio abbiamo un armadio a muro già installato come potete vedere in fondo al corridoio dopo la camera matrimoniale abbiamo una seconda stanza molto ampia anch'essa con l'accesso al balcone che vediamo in seguito proseguendo troviamo il bagno composto di vasca lavabo specchiera bidet e vc ed infine l'ultima stanza ritorniamo poi verso l'ingresso per vedere il balcone attraverso il corridoio d'ingresso entrando nel soggiorno possiamo accedere poi al balcone un balcone molto lungo dove in conclusione abbiamo un'apertura e possiamo accedere anche al giardino un giardino come possiamo notare veramente ampio se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 0041 91 921 24 28 ti affitto un'apertura